Ma pensi sempre a Ornella Muti? Ancora innamorato di lei, eh? Eh sì. Facciamo gli auguri a Ornella. Ti amo. Più forte. Ti amo. Più forte, non ti senti. Perché ogni compleanno diventa più affascinante. Senti però, te mai è successo che magari uno che non ti piaceva, poi taglia e ritaglia col tempo che alla fine ti è piaciuto. E-Film con Ornella Muti. Ogni lunedì in prima serata, su Premium Comedy.